ciao buongiorno sto rigirando questo video perché l'avevo già girato ma è uscito 20 minuti e non sono riuscita a parlarvi nemmeno dei metà metà dei prodotti che avevo qua sopra quindi ho deciso che vi parlerò solo di 1 2 3 4 5 6 7 prodotti in questo video e farò magari dei video suddivisi faccio una piccola parentesi a te che adesso mi verrai a scrivere hai rotto quei prodotti fitline sei così tanto carina quando non parli di fitline sei piace non mi interessa non mi interessa se non ti va bene questo video questo video parlerò solo ed esclusivamente dei prodotti fitline quindi non lo guardare a me sinceramente quello che mi dici tu se ti piace o non ti piace quando parlo dei prodotti non mi interessa questo è il mio lavoro io in social li utilizzo anche per lavorare e perché sto facendo questo video su youtube semplicemente perché li ho sempre fatti su instagram ma instagram dopo un po cancella i video quindi ogni volta mi trovo a doverli rifare ho pensato cavoli ho youtube giro il video su youtube così su youtube rimane e anche le persone che mi chiedono su instagram posso inviargli questo video quindi mi dispiace se ti sto sulle scatole quando parlo di fitline non è un problema mio ma è un problema tuo chiusa parentesi detto ciò partiamo ti voglio parlare di questi prodotti che sono dei prodotti fantastici che qui in casa mia ormai utilizziamo da quasi cinque anni e che ovviamente mi hanno stravolto le giornate proprio a livello fisico e ti voglio dare un pochettino anche dire la differenza tra questi due prodotti che è una cosa che mi viene sempre chiesta su instagram singhiozzo allora iniziamo cinque anni fa più o meno io ho conosciuto questi prodotti e ho iniziato solo ed esclusivamente con lui questo è il set che si suddivide in due bustine una che si prende la mattina power cocktail una che si prende la sera prima di andare a dormire che cosa mi ha fatto questo set faccio prima a dirti che cosa non mi ha fatto perché sono meno le cose che non mi ha fatto comunque io l'ho iniziato perché avevo bisogno di andare in bagno io sono una persona sono ero una persona astitica da quando avevo memoria devo smetterla di gesticolare devo smetterla di gesticolare sto così e comunque sono sempre stata astitica fin da quando ero bambina cosa è successo poi sono rimasta incinta e si è peggiorato ancora di più il tutto oltretutto quando io ero in gravidanza avevo anche un distacco di placenta quindi cosa è successo che ovviamente oltre a non andare in bagno non potevo nemmeno spingere avevo provato di tutto non funzionava niente finché non mi sono capitati davanti questi prodotti e li ho provati ho provati un po' dicendo vabbè tanto non funzioneranno nemmeno questi da 5 anni quasi li sto utilizzando perché il mio intestino è diventato un orologio svizzero quello che va a lavorare sull'intestino è proprio lui il power cocktail ma non lavora solo sull'intestino qua dentro ci sono frutta, verdura, probiotici, fermenti, polifenoli, bacche, c'è di tutto e il vostro fisico ne giova non solo per l'intestino cioè non pensate al power cocktail solo ed esclusivamente per aprendo questa bustina per andare in bagno no perché vi troverete con energia, con voglia di fare con tantissimo buon umore, con i capelli diversi, con la pelle diversa, con la mente diversa cioè io mi sono trovata anche con i pensieri diversi perché la mattina quando lo prendo cioè mi viene da sorridere questo prodotto viene venduto in due maniere la prima è questa che si chiama Optimal Tour Set tour perché è fatto di bustine la seconda è questa quindi voi avete basic con barattolino di Activize poi c'è il barattolino del Restorate che io non ho perché io utilizzo il Restorate in bustine comunque calcolatelo così hanno lo stesso costo ma la differenza ok se voi prendete solo questo per esempio o solo questo è abissale qui dentro avete frutta e verdura vi fa molto bene al vostro intestino sia che andate troppo sia che non andate cioè questi prodotti vanno bene sia per chi va troppo sia per chi non va sia anche per chi è regolare vi cambia anche perché io ho feedback di clienti che anche se erano regolari mi hanno portato delle testimonianze pazzesche la differenza tra questo e questo è che in questo trovate dentro già una dose di Activize quindi avete anche l'energia qui dentro cosa che qui non avete ma soprattutto questo prodotto nel 2018 se non mi ricordo male è stato potenziato all'interno ci sono più di 20 tipi di frutta verdura ci sono i polifenoli ci sono le bacche perché il bello dpm quindi questa azienda cos'è che fa che anche se un prodotto è in commercio loro continuano a studiarci per studiarci sopra per renderlo sempre migliore quindi la differenza tra il basic e il power cocktail è parecchia questo è un prodotto molto più completo di questo nonostante anche questo vada benissimo ci sono per mie clienti che hanno per esempio problemi solo di intestino loro si prendono solo non gli interessa niente dell'energia quello o quell'altro se prendono solo il basic quindi questa è la differenza con il set io ho riscontrato tantissime cose cioè non solo a livello di intestino non solo a livello di energia ma proprio anche a livello di ciclo di preciclo non ho più i dolori io ero una persona che soffriva tantissimo potrei potrei davvero star qui ora a parlarvi di questo set cosa che faccio tutti i giorni su instagram da quasi 5 anni perché io vorrei far conoscere questi prodotti a più persone e non mi interessa se qualcuno mi dice ah sempre vanna marchi no io non sono vanna marchi come vi ho sempre parlato di non lo so un vestito un fondotinta uno shampoo che mi trovavo bene faccio la stessa cosa con questa con questa cosa qua a differenza che la nessuno mi ha mai ringraziato qui invece l'azienda semplicemente perché io parlo con qualcuno dei benefici di quanto sto bene lo faccio conoscere a qualcuno qui l'azienda se qualcuno lo prende tramite me l'azienda mi dà un compenso e penso che nel 2022 con tutto quello che abbiamo passato è anche una bellissima cosa chiusa parentesi il Restorate invece a cos'è che serve? è la nostra limonata della sera permette di riposare bene riposare bene attenzione non significa addormentarsi significa che io mamma di Nicolò che non dorme mai quando era piccolo ancora di meno se dormivo 2-3 ore era tanto con il Restorate mi permetteva quelle 2-3 ore che dormivo di riposarmi effettivamente e quando andavo a svegliarmi non avevo né mal di testa malesseri vari insomma mi svegliavo effettivamente riposata non è stato un prodotto che ho amato fin da subito ho dovuto capirlo ma se penso bene questo è un prodotto che mi ha dato dei risultati pazzeschi anche ai miei capelli alla mia pelle alla vitamina D se mi segui da tanto tempo tu sai che io ho dei grossi problemi ai denti e mi si sono rotti un sacco di denti dopo l'intervento faccio le corna perché ovviamente ho sempre paura a dire una cosa del genere però da quasi 5 anni non mi si rompe più nemmeno un dente anche perché sono rimasti talmente pochi che speriamo che non si rompano più comunque lo amo è un portetto questo invece è il barattolino rosso l'Activize questo qua è il nostro barattolo salva vita a cosa serve? serve per avere energia ok? per avere concentrazione quindi devi fare una cosa per esempio io prima di stirare me lo prendo stiro in meno tempo anche se devo pulire la casa se devo giocare con Nicolò se ho tanti appuntamenti in zoom se ho tante riunioni se devo lavorare con le mie ragazze sono molto più concentrata ho delle clienti che sono studentesse di università e mi dicono che l'Activize le aiuta tantissimo nello studio proprio nella concentrazione ecco questo per me è davvero un barattolo che tutti dovrebbero avere io ce l'ho sempre in borsa quando sono stanca me lo prendo e passa la paura arrivo a sera senza trascinarmi vogliamo parlare di questo? questo adesso io vorrei concludere il video non vi parlerò degli altri due prodotti ve ne parlerò prossimamente farò dei video tutti spezzettati quindi facciamo che vi parlo solo dei set Activize e di Antioxi Antioxi ha bisogno di un monumento è un prodotto che va a lavorare diciamo sul sistema immunitario quindi vi aiuta a sostenere il sistema immunitario io per esempio adesso non so se sentite dal naso ho leggermente un po' di raffreddore mi è venuto ieri sera vi sto bombardando con questo nell'arco di due giorni e non avrò più niente prima quando mi venivo con raffreddore me lo tiravo dietro 15 giorni ma soprattutto è un prodotto ottimo per le allergie Vito è allergico a graminacee pollini quello all'aria da 4 anni non prende più un antistaminico e tantissime mie clienti mi sono arrivati i feedback potete vederli tranquillamente su Instagram mi hanno scritto la stessa identica cosa una cosa invece che vi voglio dire io sull'antioxi io ho sempre sofferto di herpes cioè ma me ne veniva uno ogni 20 giorni che mi passava questo mi veniva quello al naso io da 4 anni e mezzo quasi 5 non ho più avuto herpes se non quando ho fatto il covid e quando è morto mio papà queste sono le uniche due volte che io ho avuto l'herpes quando ho fatto il covid e quando è morto mio papà ma perché probabilmente il mio fisico poverino un'altra cosa che mi fa impazzire dell'antioxi lo sapete qual è io ho sempre avuto l'eritema sempre ho sempre utilizzato protezioni buonissime 50 più non sono mai stata al sole insomma zero ma mi è sempre venuto l'eritema da qua fino alle caviglie io sono praticamente dall'estate del 2018 che non ho più l'eritema e col bambino sto sempre al sole anche un mesetto fa circa sono stata ai Caraibi sono stata in Repubblica Dominicana un sole che non ve lo dico nemmeno cioè sembrava vulcano non mi sono nemmeno scottata sulla barca cioè cose che prima non avrei mai potuto fare con lui riesco a fare la vita normale che magari tu hai sempre fatto e io invece non potevo fare detto ciò concludo qua questo video perché voglio fare dei video piccolini perché sennò troppo lunghi diventano pesanti già quasi 13 minuti siamo per qualsiasi cosa ti lascio il mio numero di telefono qua se vuoi sapere qualcosa sui prodotti ti do un consiglio non prenderli da solo da sola questi prodotti hanno bisogno di un qualcuno che ti insegna a prenderli come si prendono al meglio perché tutti i corpi sono diversi quindi per qualsiasi cosa non esitare a scrivermi se non vuoi scrivere a me perché conosci qualcun altro non fa niente l'importante è che chiedi a qualcuno io ti auguro una magnifica giornata o serata quello che è se ti va ci vediamo al prossimo video e ricordati di aprire la finestra che ti arriva il mio bacino ciao